Siamo con Emanuele Trementozzi, creatore del più bel mondo, però il mondo Boga, ma soprattutto presidente della Sport Communication. Che cosa possiamo dire di quello che purtroppo sta accadendo in questo periodo dopo il DPCM e le blocche dello sport, insomma, di quello che sta accadendo? Beh, come già detto attraverso una mia diretta e essendo anche oggi presente in piazza, è un decreto che lede i diritti di tutti coloro che lavorano nello sport, che lavorano per lo sport. Ledono i diritti di bambini che sono costretti a rimanere a casa, si ledono i diritti di arbitri costretti a non arbitrare, si ledono i diritti di ragazzi che non hanno più uno sfogo, una passione dopo il lavoro. Purtroppo, come sta dicendo comunque lei, il problema comunque è molto più ampio perché si viene comunque a togliere il diritto di lavorare appunto a tutti coloro che appartengono al mondo dello sport, quindi allenatori. Ma anche ai video editor come sottoscritto, che comunque sapete bene che vado a riprendere le partite, faccio un'intervista e tutto il resto. Quindi possiamo dirlo tranquillamente che adesso è il momento di agire per quanto riguarda i nostri diritti. Come si potrebbe risolvere la problematica in poche parole? Il problema grosso è che non saranno 800 euro a risolvere i problemi di tante associazioni sportive. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere un proprietario di un impianto sportivo che si è messo la mano sul cuore e che ha bloccato l'affitto sia nel lockdown precedente che in questo periodo. Ma questa fortuna di tanti non ce l'hanno però in quest'altro campo dove sono adesso la bombonera paghiamo le utenze e continuano ad arrivare luce, acqua, gas e immondizia. Il 16 novembre si pagherà l'eva, le tasse le abbiamo pagate qualche giorno fa. Noi ci chiediamo se 800 euro possano soddisfare le esigenze di un'associazione che smuove oltre 1000 tesserati. Io credo che questo proprio non sia possibile. Volevo fare una domanda un po' piccante in un certo senso e anche forse provocatoria. Il mondo sportivo serve anche per tirare fuori i ragazzi dalla delinquenza. Purtroppo è molto ampia in Italia ma anche in tutto il mondo. È possibile che il governo non capisca l'importanza di queste scuole calcio ma qualsiasi tipo di sport sia per tirare fuori il meglio e non il peggio? Non capiscono che ci sono delle realtà problematiche che lo sport aiuta a risolvere. Noi personalmente collaboriamo con la Parz da due anni e abbiamo due ragazze con noi che fanno calcio. Un ultimo bambino di 7 anni aveva appena iniziato a fare calcio, uguale con una situazione un po' particolare alle spalle e stare qui con noi lo aiutava a evadere da alcuni problemi. Stando fermi e costringendoci a chiudere hanno chiuso anche queste speranze. Cioè dare a dei bambini che hanno delle problematiche, delle difficoltà di poterne venire fuori attraverso lo sport. Tralasciando per qualche secondo il problema dei PCM, parliamo della Boga o comunque sia del mondo Boga. Sogni per quanto riguarda le riaperture eventuali? Noi speriamo di giocare entro marzo. La Boga era pronta a farlo. Quest'anno nonostante il Covid aveva continuato a investire, aveva creato una squadra di calciotto, aveva creato un'altra squadra di calcio a 5, esempio Amadori, Tec, Gc, anzi 3, una serie D di calcio a 5, una serie C femminile e una terza categoria. Tutte accomunate dallo spirito Boga, lo spirito Senaise. Purtroppo siamo fermi, ma non appena sarà possibile ripartiremo perché avevamo costruito una base, avevamo migliorato quello che già c'era e soprattutto il calcio a 7 e il calcio a 5, dove avevamo costruito anche delle squadre finalmente competitive. Faccio un paio di nomi. Avevamo preso Andrea Sbracini, avevamo preso Sebastian Cartan, Pasquale Nespoli, a testimonianza che il nostro è un progetto vincente che negli anni ci darà i giusti meriti. Chiudiamo con l'ultima domanda. Quali sono i sogni a livello di aspettativi o comunque di nuove creazioni del mondo Boga per quanto riguarda gli anni a seguire? Il sogno è quello di continuare così, di crescere con le scuole calcio, di crescere con il nostro spirito e lo abbiamo fatto lavorando sul territorio e lo continueremo a fare, continueremo a investire dove è necessario e continueremo a far crescere il nome della Boga a Civitanova, ma a questo punto posso dire in tutte le marche. Beh, che dire, dalle Boga e ovviamente grazie mille per l'intervista e ci vediamo alla prossima. Boga e sboga! Porco!